Cos'è un fattore di crescita dei fibroblasti? I fibroblasti sono un tipo di cellula staminale responsabile dell'aiuto alla creazione di tessuti connettivi. Un fattore di crescita dei fibroblasti è un tipo speciale di proteina che è stata trovata per influenzare l'attività e la differenziazione dei fibroblasti. Da allora è stato scoperto che queste stesse proteine regolatrici possono essere trovate che agiscono anche su altre cellule. Vari tipi di fattori di crescita dei fibroblasti sono strumentali durante lo sviluppo embrionale ma sono anche attivi nell'adulto. Questi fattori di crescita possono essere utili nel trattamento di alcuni disturbi come l'autismo. Gli integratori di colostro bovino contengono una certa quantità di fattore di crescita dei fibroblasti, ma i potenziali benefici non sono stati valutati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Le attività per le quali la famiglia dei fattori di crescita dei fibroblasti è stata chiamata per la prima volta includono i fibroblasti stimolanti a passare attraverso la mitosi, replicandosi quindi più frequentemente e causando la differenziazione dei fibroblasti in specifici tipi di cellule mature. Le cellule mature spellono le sostanze utilizzate per costruire la matrice extracellulare come il collagene, le glicoproteine e diversi tipi di fibre. Quando si verifica una ferita, i fattori di crescita dei fibroblasti sono responsabili della segnalazione ai fibroblasti di migrare nell'area, replicandosi ad una velocità maggiore e seccernendo le sostanze e le fibre terrose necessarie per riparare il danno. Tuttavia, le attività attribuite a ciascun tipo di fattore di crescita dei fibroblasti sono notevolmente aumentate. Ora sono noti per avere un'influenza simile su molte altre cellule tra cui, cellule endoteliali, che formano il rivestimento del sistema circolatorio, con drociti, che costruiscono la cartilagine a cellule muscolari lisce, che costituiscono le pareti di molti organi interni. I fattori di crescita dei fibroblasti sono ora noti per avere altre funzioni oltre a stimolare la mitosi e la differenziazione come estendere la vita dei singoli neuroni e indurre la migrazione degli ostrociti, cioè cellule a forma di stella nel sistema nervoso centrale. Diversi tipi di fattori di crescita dei fibroblasti sono stati testati come potenziali trattamenti per le condizioni di salute. Un fattore di crescita è stato studiato per l'uso nell'autismo e può essere utile nella schizofrenia perché induce la mitosi nelle cellule cerebrali-cerebrali. Un altro viene testato per curare il danno causato dalla malattia coronarica a causa della sua influenza sulle cellule endoteliali. Un terzo fattore di crescita dei fibroblasti viene utilizzato negli esperimenti sulle possibili cause di tumori al seno dipendenti da estrogeni che sviluppano una resistenza ai trattamenti antiestrogeni. Nelle valutazioni scientifiche dei fattori di crescita dei fibroblasti, essi vengono somministrati per iniezione, non è chiaro se possano trarne molti benefici se assunti per via orale nel colostro bovino, a parte il possibile rafforzamento e guarigione del rivestimento del tubo digerente.